In questa puntata di Unicam News, il dottor Vincenzo Tedesco è il nuovo direttore generale Unicam. Raccolta fondi delle farmacie comunali italiane a sostegno di Unicam. Firmato il protocollo d'intesa tra la medicina veterinaria di Unicam e il comune di Sefro. Successo ad Unicam per la due giorni non stop di programmazione. Bentrovati all'appuntamento settimanale di Unicam News. Avete sentito i titoli? Allora vediamo subito il primo servizio. Da lunedì 2 ottobre il dottor Vincenzo Tedesco è il nuovo direttore generale dell'Università di Camerino. Esperto tra l'altro di valutazione di tematiche dell'anticorruzione e trasparenza nel pubblico impiego di e-government, il dottor Tedesco proviene dalla scuola IMT di Lucca dove ha rivestito il ruolo di direttore amministrativo dall'aprile 2015 all'aprile 2017. In precedenza ricoperto incarichi dirigenziali presso l'Università di Pisa. Il mandato che ho iniziato da una settimana è un mandato complesso, difficile e coincide anche con il mandato del professor Pettinari che dal primo novembre assumerà la carica. dal punto di vista della direzione generale si cercherà di agire sia sul personale cercando di dare contezza a quelli che sono i ruoli all'interno dell'Atene. Abbiamo grandissime professionalità e abbiamo ottime capacità che possiamo esportare. Lavoriamo molto sulla motivazione e cercheremo di assecondare in tutti i modi quelle che sono le nuove direttive e soprattutto le indicazioni politiche del Rettore. Consigliere che insieme al Rettore cercheremo di rafforzare i settori della ricerca, la ricerca europea e internazionale. Noi dobbiamo andare a prendere progetti, dobbiamo aumentare lo score sulla valutazione, dobbiamo cercare soprattutto di consentire di avere una dignitosa azione di diritto allo studio e quindi c'è il problema della ricostruzione. Dobbiamo accompagnare tutte le tematiche della ricostruzione che sono connesse e qui lo dico anche con una legislazione non propriamente aderente a quando ci sono le urgenze e quindi dovremmo inventarci anche i modi attraverso il quale affrontare questo tipo di problema. Dall'altra parte però mi aspetto anche una collaborazione a 360 guardi con tutte le istituzioni, a partire anche dallo stesso territorio camerinese, ma anche considerando quelle che sono le strutture che noi abbiamo anche all'interno di un territorio vasto. Ci saranno quindi anche cambiamenti nella struttura organizzativa dell'Ateneo. Questo è uno degli obiettivi anche del Rettore Pettinari. Il Rettore Pettinari nel suo programma ha scritto che bisogna adattare lo schema organizzativo alle nuove esigenze. Cercheremo all'inizio del prossimo anno di portare in approvazione uno schema organizzativo che sia più aderente a quelle che sono le realtà che dobbiamo affrontare, valorizzando tutti i ruoli che abbiamo all'interno. Consideriamo che come unità di personale allo stato attuale noi abbiamo 262 unità di personale che comunque ci consentono di avere un buon bacino. Quindi prima ci guarderemo all'interno, cercheremo di valorizzare soprattutto la cosa che ci tengo a dire, che tutte le persone avranno la possibilità di accedere ai ruoli di responsabilità. Noi dobbiamo considerare questa nuova avventura, questa nuova impostazione organizzativa come un punto zero dove dobbiamo rispondere alle esigenze. Ricordiamo sempre che le attività istituzionali di un Ateneo sono didattiche ricerche, quindi noi dobbiamo accompagnare la didattica ricerca e le altre attività istituzionali rafforzando e individuando modelli organizzativi aderenti. È stata presentata nei giorni scorsi in Ateneo l'iniziativa voluta dall'Assofarm, l'associazione che racchiude le farmacie comunali italiane a sostegno dell'Università di Camerino. Il presidente nazionale Assofarm Venanzio Gizzi e il vicepresidente Luca Pieri hanno infatti consegnato al rettore eletto Claudio Pettinari la somma ricavata dalla raccolta a fondi tra gli associati che verrà utilizzata per iniziative e progetti a sostegno della scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute di Unicam. Presenti all'incontro anche il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui e il commissario straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del centro Italia, l'onorevole Paola De Micheli che per la prima volta dalla sua nomina ha fatto visita all'Ateneo. Io credo che sia stata un'operazione lungimirante delle farmacie comunali nazionali che sapendo quanto quest'università sta facendo per tutta la filiera farmaceutica in Italia vogliono investire sul ripristino dei laboratori che servivano e che sono andati rovinati durante il sisma, che servivano per formare tutte le persone che poi dopo finiscono nella filiera farmaceutica. Quindi è un investimento importante su una filiera che diventa sempre più importante in Italia, non è il caso tutta la discussione sulla autorità del farmaco europea e io credo che sia anche il riconoscimento di un movimento nazionale delle farmacie sul ruolo che l'Università di Camerino ha in questo settore. Saranno sicuramente studenti all'altezza del loro ruolo, sappiamo il prestigio della Facoltà di Camerino, conosciamo la storia dell'Università di Camerino, noi di Assuma siamo stati veramente lieti, noi di Assuma ma soprattutto le farmacie comunali sono stati veramente lieti di aver offerto parte del loro lavoro per un progetto così di solidarietà e così pieno di significati con l'auspicio che tutto il territorio possa riprendere il più presto possibile e nel DNA delle farmacie comunali il concetto di solidarietà, il concetto di aiuto, il concetto di ascolto e soprattutto il concetto della presa in carico del cittadino. Presa in carico del cittadino e quindi la presa in carico dei pazienti. I farmacisti comunali lavorano, vogliono che la farmacia si sviluppi in questa direzione, che possono essere sempre più vicine ai cittadini e possono sempre ascoltarli meglio e seguirli meglio nel loro ciclo di cura. Assofarm fu vicina subito nel momento del terremoto, ci contattò, ci chiese come poteva risolvere problemi che in quel momento si erano generati. Immaginammo subito un intervento data alla relazione fra le farmacie comunali e la scuola del farmaco e dei prodotti della salute, un intervento a favore della scuola stessa. In quel momento il nostro edificio dove si svolgevano i laboratori aveva subito dei danni, fortunatamente non strutturali, ma danni comunque importanti e significativi per la prosecuzione delle attività didattiche e di ricerca e Assofarm diede subito l'ok per questo tipo di progetto e inizio la raccolta fondi. Una raccolta fondi che si è definita nel tempo, si è quantificata, hanno raccolto 63 mila euro e questi 63 mila euro saranno utilizzati per la copertura parziale delle spese che dobbiamo e abbiamo in parte già fatto, sui lavori che abbiamo già fatto presso la nostra scuola del farmaco. Ma quello che è importante è che con la donazione di oggi si sancisce un rapporto importante fra noi e Assofarm. Il rettore Unicam, Flavio Corradini e il sindaco di Sefro Giancarlo Temperilli hanno firmato nei giorni scorsi un protocollo d'intesa tra il comune di Sefro e l'ospedale veterinario universitario didattico della scuola di bioscienze e medicina veterinaria di Unicam per attività di assistenza veterinaria e benessere animale. Le attività dell'accordo sono finalizzate principalmente all'assistenza veterinaria in favore dei cani del nucleo cinofilo istituito all'interno del gruppo comunale di protezione civile di Sefro. Questa prima collaborazione pone poi le basi per ulteriori sviluppi per attività di ricerca, didattiche e di servizi congiunti. Hack Developers, promosso dal team per la trasformazione digitale in collaborazione con Codemotion, è stata una maratona di 48 ore non stop di sviluppo digitale che ha visto coinvolti più di 100 sviluppatori in oltre 20 città italiane sul tema della digitalizzazione della PA. Quest'anno anche Camerino, grazie alla collaborazione tra Unicam e Elios, è stata sede di questo importante evento. Oltre 20 giovani sviluppatori, in particolare studenti dei corsi di laurea in informatica, hanno lavorato presso il polo informatico Carla Lodovici sabato 7 e domenica 8 sulle diverse challenge, ovvero le sfide concentrandosi in particolare su vari progetti relativi, tra gli altri a Speed, il sistema unico di autenticazione per tutti i servizi della pubblica amministrazione e alla carta d'identità elettronica. I programmatori sono stati coadiuvati dai mentor Unicam ed Elios coordinati da Moreno Gentili. I ragazzi hanno poi presentato i risultati ottenuti e continueranno a perfezionare il codice per un mese intero. I vincitori nazionali saranno annunciati il 6 novembre. Finisce qui questa puntata di Unicam News. Noi vi diamo appuntamento mercoledì prossimo alla stessa ora. Vi ricordiamo che tutte le notizie relative all'Università di Camerino le potete trovare sul sito www.unicam.it. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.